Musica Ai piccoli comuni piemontesi 52 milioni dal Viminale per la sicurezza di strade, scuole ed edifici, Anci bene ma sarà corsa contro il tempo. Buongiorno a Piamo con una notizia che riguarda i piccoli comuni con meno di 20 mila abitanti. 52 milioni di euro destinati ai lavori pubblici per la sicurezza di strade, scuole ed edifici. Risorse da spendere entro il 15 maggio. Davide Piriocos. 400 milioni su scala nazionale, 52 in Piemonte. Con una lettera indirizzata ai sindaci dei piccoli comuni italiani, quelli con una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti, il ministro Selvini ha illustrato una delle misure dell'ultima finanziaria, il contributo a favore della sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici. Una pioggia di milioni che porta liquidità lì dove manca, nei municipi piccoli, quelli che più faticano a fare investimenti. In Piemonte questi piccoli comuni sono molto numerosi, 1150 su 1200 complessivi. Vi risiede oltre metà della popolazione, 2 milioni 300 mila persone su 4 milioni 300 mila piemontesi. La provincia, che riceve più risorse, è Torino, 14 milioni e mezzo, destinati a quasi 300 comuni. Segue Cuneo con 11 milioni, Alessandria con 8, Asti con 5 e Novara con 4. Chiudono Vercelli, BL e VCO con poco più di 3 milioni. A provincia, Alberto Avetta, presidente di Ancipiemonte, apprezza l'entità del contributo ma segnala alcuni nodi. Anzitutto non è chiaro se i soldi possano essere spesi per lavori di manutenzione ordinaria o solo per le emergenze. Inoltre preoccupa la corsa contro il tempo. Per non perdere i finanziamenti, i cantieri devono risultare in fase esecutiva prima del 15 maggio. Non facile, soprattutto in un anno elettorale come il 2019. In Regione andranno al voto 828 comuni, due terzi del totale.